Vedo che c'è un ospite oggi Sì, sempre, così Oggi Ci sono stati anche altri ospiti Negli altri giorni Sì, sì, per carità Buonasera È un piacere Non so se lo conoscevi il Fazzone Lo conosci? Ancora no, ma Sono curioso Fai di qualche domanda Posso fare un'intervista esclusiva Prego, prego, prego Saluto nostro ospite Saluto nostro ospite Fazza Yes, sir Fazza, buonasera Di nome, com'è che fai tesoro? Alessandro Alessandro, carissimo Racconta un pochino te Il percorso tuo qua su Twitch Com'è andato Che banalità Aspettavo una domanda un po' più pinta Eh, ma io non lo conosco bene ancora Voglio un attimo capire E poi si discute Ho iniziato con un canale Di quelli brutti e orrendi Che si stimava al tempo C'era presente che c'era C'era Paolo Vabbè, anche ora comunque va Eh, LOL È uno dei suoi seguenti Sì, sì, sì Però adesso ovviamente Poi fa tanto contenuto diverso Al tempo Era LOL O Bac Volpe? Volpe L'ho shottato Volpe Che cosa succede amici? Cosa è successo? Ah, un po' d'acqua Stai vedendo un po' d'acquina Sì Ascolta caro, ma Quella maglietta lì che c'ha addosso Che c'è? Questa Ma e se la togliessi? Beh, non penso sia fattibile No Dai, non si può togliere la maglietta? Un'idea simpatica Poteva levarla a tutti quanti Ascolta, ce l'hai la fidanzatina? La fidanzatina? L'intervista la fa con mi madre No, ti devo purtroppo dire di no allora È un peccato, un peccato Che cos'è la prima cosa che guardi? Si risponde seriamente Sì, sì, sì Tu che cosa guardi per prima cosa? I piedi E cosa serve? E come li cerchi questi piedi? Ma scusa, chi è qui che lo fa le domande? Io cerco un 38-39 Eh, bevi Quindi anche importanti comunque Buoni 38-39 è una bella fetta Eh, sì Buoni da mangiare Fazzo Oh Ascolta, come era il nome del tuo? Non mi ricordo un attimo Alessandro Alessandro, ascolta Ma le tue passioni quali sono? Le mie passioni? Cioè, a parte i giochini Eh, allora sono finito Mi ricordo, ero ragazzino Quello lì, quando è uscito Final Fantasy X Avrei avuto 12 anni, credo O meno Finisco il gioco 100 ore di gioco Finisco il gioco Mi ricordo Mi butto sul letto Faccio Sto bene Boom Prendo e comincio a piangere Ma no Ok, ho finito il gioco E non so più che fare Ero depresso Io questo tipo di sensazione L'ho avuta quando lessi L'ultima pagina di Harry Potter Che mi ha accompagnato Per tutta l'adolescenza Fino ai 18-19 anni Mi ricordo Quando è che è finito E che me lo leggevo Quando cacavo Quando andavo Andavo a scuola Quando faccio tutte queste robe E quando ho letto L'ultima pagina Ho chiuso il libro E ora? E ora Poi l'ho riletto Tutta la taga Altre 6 o 7 volte Però Quando ho finito Per la prima volta Al 7 Ma ho proprio Ho detto Cazzo, no? Mi dicono in chat Alessandro Che 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 te sei bravo A Tekken È vero? C'ho giochi chiaro Ce l'hai Tekken 7? Sì Vuoi fare la partita? Ma non Fa la partita adesso Adesso Non ci gioco da me Non ci dai le palle Di fare la partita Vabbè La provocazione La provocazione Sì, sì, sì Possiamo farla Se vuoi Non ci gioco da me Dai Romano Ma c'hai il 7 O c'hai il 7 Non ho capito Il 7 Ho capito La competizione nel sangue Proprio di Volpesco Ce l'hai le palle Guarda l'occhio poi Giochi sul PC Vero? Sì, mi raccomando Dai, dai Dai Mazzone Guardalo Guarda che bello Sei tutto animato Mi adoro Rini Da prendertelo Per grossi Vabbè Volpesco Comunque con Jin E normi Dai Dai Sei un po' normi Con Jin Io sono normi Non sai manco Che non è Jin E cazzo Io è un cretino Vabbè Normi Guarda Anche la regia Perfetta Bello che si Con la linguina di fuori Si primitiani Regia Mi ricordo Mezza combo Guarda come non le ricordo Guarda che si è preso Wow Oh 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 Incazzato nero Incazzato nero Mossa finale Mossa finale La final No ti ha fatto anche la final Volpes Umiliazione totale Incazzato nero Stento Bello il bro Negan su te Che non lo sapevo E' sempre inespressivo Qualsiasi cosa accada Sarà sempre così Non è inespressione È decisione E' fuoco Bellissimo sto mossa Esatto Anche se perde E' contento lo stesso Che ne tocca con stile Per spezzare Per spezzare la lancia A favore di Volpes Possiamo comunque dire Che Non è proprio Delle condizioni ideali Ma non attenzione L'attenzione L'attenzione Si 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 Aiaia Combo aerea Combo aerea Combo aerea Cosignera Pure la finta Da parte di Faz Cioè mamma mia È caribile Oh 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 Perfetto Pogu Nooo C'ha doni Cosa C'è un occhiata nei denti E si è ci accomandati Vabbè dai La prima è dei polle Che faccia schifata Ora si è nato Il riscaldamento Era questo Ora si fa Sul serio Questo era Solo il 10% Nella mia forza Distrutto Però ha detto Che era il 10% La sua forza Ragazzi Quindi Ah ok Tipo presa Alle varie evoluzioni Si si chiaro C'ho le mani fredde C'ho le mani gelate Non mi riesci Ti muove bene i diti E lo Zutti I diti 100 gradi E la sua forma finale È volpesco No Non ha corso No Cavolo Eh no Eh sì L'ha studiato prima Prima L'ha usato per studiare Questa è una cazzata Grattugiata nel giro Cazzo Oh Guarda è incazzato Vabbè è incazzato Fazzi sta giocando la serie Sto smashellando Tra l'altro Palleggia Palleggia Guarda come Guarda come Guarda come Guarda come Guarda come Guarda come Roteare la mazza Come Rotea quella mazza Bella Bastone nel culo era Vesta Ma non ho capito Quando palleggi C'è impossibile rispondere Sì Eh sì Se fa il timing Perfetto Se fa il timing Perfetto Aia Che dodge Mamma mia Eh bella questa Vabbè asfaltata Volpe Dacci all'impia Ascolta Cazzo Ce l'hai FIFA 21 No non ce l'ho più L'occhio Mi sei scallato Ti sei cagato sotto Perché sei scrappato Ti sei cagato sotto Ah ne vuoi fare un'altra Eh per forza È solo il 20% Era il 20% Era il 20% Vabbè Ti vogliamo vedere Nella final form Vabbè Mai è piena Volpe final form Final form La forma terza Quella con la testa allungata Ah vabbè Non ho capito La forma terza La forma terza Eh che è bravo ragazzo Vedi è molto bravo Io non so mica capace Ma scusa Ma scusa Ne hai detto Se c'ha le palle Entra Così E cosa Cioè Poi Ora mi dice Il gusto Della sfida Si si gioca Si si diverte Quello è il bello Sì 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 Certo certo Ma guarda come è conciato Ma chi è quello Uno dei kpop No è quello di Final Fantasy 15 No Final Fantasy 15 Tra l'altro Personaggio rottissimo Proprio da normalone Schifoso Vabbè Non lo scate però Scusa Hai detto La giusta divertente Sto toccando Sto toccando Ragazzi Gli fps Sono bassi Perché stanno Streammando lo schermo Non stanno streammando il gioco Fa scarmati Si scoprì Che era un pro Di Tekken 7 Esatto No magari Lui non ci giocava Da mesi Su pc Cioè Sul play Tutti i giorni No Mi divertiva Attenzione Infatti Guarda Il volto È già più rilassato Madonna Si le cavaffi Per la pulpa Dell'atte Sto pensando Alle fieste Sto ripensando Alla dormita Alle pumpone Sì 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 Dalle cotto tutte Comunque le faccio anche io Questi versetti qua Quando gioco Li faccio anche io No Che è stato Il Dario Perché pensate Di poter recuperare Volpesco Io faccio le penne Avevo vinto Avevo vinto Avevo vinto Avevo vinto Ancora Volpe Per forza Ti rendi conto Che stai prendendo Il cazzo Da uno Che la peserà Un quarto Rispetto a te Volpesco Guarda Lui è a un grado parecchio Più alto Del minuto Insomma È chiaro che Insomma è un po' difficile Per me ora Riuscire a prevalere Ma insomma Piano piano Si impara Non me pare Io ho pensato Quella differenza Se guardi I gradi del fazone Quelli Di Volpesco È come se avesse vinto Volpesco Praticamente Beh Quello Sì sostanzialmente Non penso Il discorso è quello Oh oh Attenzione L'ha preso L'ha preso L'ha preso Lo prende Guarda come è in fase di studio Volpesco Non è da parlare solo O fa anche i fatti Che cazzo vuol dire Non lo so Commento la serata Volpesco è un cazzato Final form Final form Final form Madonna Final form Final form Golden Volpesco Golden Volpesco C'è la bella È la bella questa La bella dopo dieci Che non ha perso Dettaglio Per lui è la bella Ovviamente È la classica Che il vincere Ha vincenuto Ha capito Che lo attagli Ha capito Si è messo a spavare Come i bambini Ma non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Quando facevi Il fuoco Quando facevi Il frullino A Ma non è Non è quello Volpe Che ha scoperto La tua tecnica Di parati Attaccarlo subito dopo Dopo quella mossettina lì E ha capito Ha iniziato a pararsi Anche lui Ti ha aperto il culo Ma l'apertura Sul nome Io il nome Ce l'ho aprendo Il culo Capito Un'altra Madonna L'ultima L'ultima Per il meme Il fazione È carico Il pesco Non cambia i personaggi Proprio normi Totale Capirai Lui ha usato I tuoi personaggi Più normi Final form Final form La funizione Arriva Chi è che Sta respirando A fatica Sì 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 È vero Fischi Occhio direi Volpe Però Fischi Aia Cazzo è Wiki Quello di Toy Story Pinguino Pinguino Toy Story Vabbè Sassate Final form Eccolo L'ha preso Avanti Agio Ma Niente Il progetto Il proprio Bambino Ficcino Guarda Questa è Ora perde E faccia Le offese A parole Capito Se vuoi Uno V1 a FIFA Volpe Bravo Potessi ispirare Il Aia Io ho sentito Un lancio Del guanto Da parte Del Masseo Comunque Io ci sto Volentirissimo Tesoro Io non Cosa Non ce l'ho Su pc Allora Sei in testa Di cazzo È stata Una bella Sfira Colpe Sì sì Comunque Non c'è Eh guarda Lì ero più forte Sapi io sono Campione Europeo Non Non è vero Peccato Peccato Perché lo scontro Col Masseo Sarebbe stato Interessante Veramente È un gran peccato Sì Veramente Io me lo sarei goduto Ah sì Mi avrei fatto Un culo Ma come Un bar Come l'hai fatta Il fuzz Più o meno È vero Perché però Potevi sfoderare La final form Eh Volpe Esatto No non ce la merita Che Non ce la merita Isabelle lancia La sfida Volpescu Su Tekken Hai paura Volpescu Verde contro Isabelle No Dada Non ho paura Ni Voi Non ho paura Di l'altro Di l'anni Fa pagnia Di l'anni U U Grazie a tutti.